C'è il rischio che a 14 anni questo ragazzino etero abbia una repulsione incredibile nei confronti della situazione in cui è stato posto e a quel punto come gestiamo la cosa? Tutto può essere, così come esistono bambini, figli di dottori che non vogliono per nessun motivo iscriversi a medicina e possono arrivare a odiare tutta la categoria dei medici la stessa cosa potrebbe valere per una famiglia omosessuale una cosa non è detta e non è esclusa sta ovviamente all'abilità dei genitori e poi alla personalità anche del figlio nel senso che da una coppia etero o gay fantastica può venire fuori un delinquente quindi tutto sarebbe da provare ma è ovviamente un singolo caso negativo non sarebbe prova forse di niente Dunque, come tutti ci sono due grandi filoni il filone di coloro che sono d'accordo perché reputano che comunque una persona può crescere benissimo con due genitori dello stesso sesso questo perché non è detto appunto che un bambino con una famiglia tra virgolette normale possa crescere con gli stessi valori e con lo stesso affetto che potrebbero dare due ragazzi omosessuali mentre l'altro filone come ben sappiamo non è d'accordo perché comunque nel momento in cui a un bambino manca la figura materna piuttosto che paterna perché comunque se i due ragazzi sono omosessuali sarebbero una figura particolare secondo me nel senso che gli possono dare un affetto enorme ma è tra virgolette promiscuo nel senso che comunque questo bambino potrebbe in alcuni momenti rimanere disorientato nel senso che se si mette a confronto con un altro bambino della stessa età potrebbe comunque rendersi conto che gli può mancare una determinata figura che può essere quella materna, quella paterna proprio perché dipende da poi come i due ragazzi riescono a gestire la situazione quindi quello che penso io personalmente è che probabilmente adesso in Italia non siamo, cioè non è uno stato completamente pronto ad affrontare questa tipologia di situazione però non escludo, cioè io non sono contraria non sono completamente contraria perché comunque devo essere sincera però è sicuramente una cosa non che va contro natura ma che comunque si deve instaurare nella società perché tutte le cose diverse, tutte le cose nuove spaventano in Francia che poi è stato il paese apripista da questo punto di vista in Europa è da pochi anni che le coppie gay possono adottare io credo che dei bambini piccoli di sei mesi che siano oggi diciottenni e possano spiegare cosa gli è successo di fatto non ce ne sono avendo un risconto concreto si potrebbero anche tranquillizzare tutti colori che invece sono contrari piuttosto che magari chiunque si può rendere conto che non è una cosa giusta da fare però bisognerebbe provare perché se non si prova non si può sapere no dico anche perché per adottare comunque ci sono i controlli per tutti previsti dalla legge quindi c'è un percorso da fare con psicologi eccetera per cui questo chiaramente varrebbe come vale per dietro così varrebbe quindi tu sei a favore? io sì sono a favore è chiaro che sai parlare di queste cose in Italia è come dire determina sempre una certa distanza fra quella che è la tua idea razionale e quella che è la praticabilità della cosa perché chiaramente dal punto di vista politico mi rendo conto che in Italia non abbiamo neanche la possibilità né di sposarsi fra omosessuali e nemmeno una qualunque forma di riconoscimento anche minima di coppie per cui figurati l'adozione cioè è ovvio che per l'Italia è una cosa troppo avanti è veramente un moralismo? è veramente un essere contrari? oppure è un fattore anche questo economico? diamo un messaggio agli etero preoccupati delle pensioni di reversibilità tanto non se ne sposeranno molti beh sì infatti però anche loro dovrebbero sposarsi di meno in realtà visto che dopo tre anni si divorciano esatto poi in realtà ahimè qua il problema è generale per tutta la società bisogna pensare che delle persone che fanno un progetto di vita insieme che si aiutano, che collaborano eccetera secondo me ma è garantito perché è anche il motivo per cui viene riconosciuto dallo Stato il matrimonio sicuramente diciamo riescono anche a organizzare meglio la loro vita sostenersi eccetera c'è un welfare familiare per cui questo ha un valore economico per tutta la società quindi certo è assolutamente d'accordo si sposino più etero, si sposino più gay è meglio l'importante è farlo consapevolmente per non arricchire gli avvocati dopo tre anni sempre con i dovuti esami preliminari da parte di specialisti io penso che sarebbe giusto dare la possibilità anche alle coppie omosessuali di intraprendere questo percorso che è l'avere un bambino secondo me dobbiamo riflettere sul fatto che essere una coppia gay ha parecchi lati difficili nella situazione in cui viviamo oggi sebbene sia completamente diversa da vent'anni fa comunque una coppia gay ha delle difficoltà in più da superare quindi se una coppia omosessuale risulta una coppia stabile e quindi riesce a passare questi esami da parte di specialisti secondo me ha più possibilità ancora di una coppia eterosessuale di riuscire in questa impresa quindi sì io penso sono favorevole mi piacerebbe appunto ovviamente è una cosa da vedere non conosco realtà di questo tipo anche se so che esistono comunque in Italia famiglia arcobaleno con figli naturali che poi rimescolamenti vari che hanno portato a una coppia omosessuale con un figlio e però personalmente non ne conosco mi piacerebbe mi piacerebbe conoscere e capire meglio questo aspetto iscriviti al canale